Grazie ancora di cuore a tutti per essere qui questa sera, fatevi un grande applauso. E' molto lì, non è facile fare questo pezzo di video, ma lui è pure come su sera, ci piacciono. Il prossimo pezzo che ho dato via a questo progetto, a questo non si spende, e ci vengo a dedicarla a tutti i componenti della band. Non posso dire vecchi e noi, perché in realtà non ce ne sono di vecchi, ma di noi sì. A tutti voi che siete qui, e anche a chi gravita attorno a questa band e alla musica della viva in generale. Quindi, se potete, aiutate la musica della viva, a prescindere da chi sia la band. E andate a canciare, fatevi vedere. Fatevi vedere soprattutto a voi perché la musica è veramente curativa. Fa sta bene, e noi tutti abbiamo bisogno di stare bene. Questa si chiama Last. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti